Nel 2007 fece grande clamore la strage di Ferragosto a Duisburg, quando un gruppo di fuoco dell'Andrina dei Nirta Strangio uccise sei esponenti dei Pellevottari, nel quadro della faida di San Luca. Per un caso fortuito, Antonio Strangio scampò all'attentato. Infatti l'uomo lasciò il locale prima che le sei persone venissero uccise davanti al ristorante. E nel corso degli accertamenti e delle perquisizioni che fecero seguito alla strage, nel suo armaglietto furono rinvenute 280 cartucce calibro 357 magno. Secondo quanto riferito da un quotidiano tedesco, Antonio Strangio, 44 anni, era arrivato in Germania per la prima volta a metà degli anni 90. Arrestato più volte ed estradato, una volta scontata la pena in Italia, era tornato in Germania. Ora su di lui grava una condanna a cinque anni di reclusione scaturita dal processo Pollino, in cui fu coinvolto perché accusato di un traffico di cocaina tra la Calabria e Milano. L'uomo, che viveva tranquillamente in Germania, ora ha avuto meno fortuna ed è stato arrestato a Duisburg in seguito ad un banalissimo incidente. Attualmente svolgeva le mansioni di corriere per una società di consegne postali. È stato proprio durante il suo turno di lavoro che il latitante è stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un furgone. Incidente a seguito del quale è dovuta intervenire la polizia locale, che nel verificare i documenti delle persone coinvolte, ha scoperto che una di loro era proprio Antonio Strangio, un latitante che comunque non lascondeva la propria identità, ma che sulla cui testa pendeva un mandato di arresto europeo. Ora la DDA di Reggio Calabria ha avviato nei suoi confronti la procedura di estradizione in Italia.